Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nier Replicant Bene andiamo avanti e vediamo cosa succede Ehm Speriamo di essere abbastanza pronti Il livello per fare ancora ci vuole un po' Preferivo farlo, ero più sicuro, stavo più su sicuro Un bel posto però, due colombe Nell'estate Qui è il posto dove dovremmo trovare quei fiori strani, quei semi Credo eh Anche qui ci si può andare in qualche modo Ah stavo dicendo si si va Invece quel cazzo mi ha risposto Ok andiamo Oh basta E quindi che cazzo devo fare adesso? Certo che senza indizi non è facile Oh salve Oh beh mi fa piacere Ma il problema di chi mi sorge Quale cazzo è la parola d'ordine? Andiamo un po' Beh a me non siamo morti dai va bene lo stesso Ma è strano a causa di una oscura malattia La vecchiaia è una malattia? Sare più oggi con la seconda Non era malo Ok Ehm bene Andiamo Che cazzo succede? We're here to rescue Yonah No dice huh? No I suppose not Cazzo Fantastico No c'è a miseria Infatti Voglio rispiegazioni voglio Ovviamente lo posso leggere che devo combattere No c'è un po' No c'è un po' No c'è un po' No c'è un po' Non c'è un po' No c'è un po' No c'è un po' Perfetto, i miei potenti! Oh, shit on a shingle! Possono usare le versi seal! Of course we can! Il potente è venuto da noi in primo momento. Tu solo ti costruisci una piccola portion. Vyse, ti va bene? Tevola, Popola! Cosa stai facendo questo? Cosa stai sidingo con i Shades? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? La risposta a ogni riddle è in mezzo del cuore di Shadowlord. Shadowlord? Quindi hai stato sul suo lontano questa volta? Hai dovuto cercare quella risposta. Hai dovuto face a tecnici di tecnici. Volevo, vincere il castello di Shadowlord. Sì, non è vero. Lontano i Shades. O, non è vero. Oh, non è vero. Di Davila e Popola sono combattiamoci. Si, ci sembra che ci partiamo un po' di... Oh... Um... 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 You ok, Vice? How odd. For long years, my mind and tongue have been my greatest assets. But now the latter seems to be... Help. Vice? Do not look at me like that. I am Grimoire Vice. I am perfectly... Boh, va a capire che cazzo è successo Nel senso Vice Adesso la vedremo Oh, c'è una sala da ballo Con dei fantasmi È sicuramente una grande affaire Un po' di bambini Sono tutti scogli Penso che siamo in scogli Non è come se stavo pensando di lasciare Sì, è un po' tardi per questo Si usa con magia armi Arma, magia, spezza Vabbè, spezza cazzo non c'è da niente Con le armi che abbiamo Non abbiamo problemi Normalmente sì, lo vogliamo farlo Mi diverto di più così Come vedete Non c'è bisogno dello spezza Non c'è da cazzo No, che grazie Che cazzo Avrei dire sì Rassi, rassi, rassi Schivato Perché la prima stava più bene È stigata All'è, c'è rimasto All'è, c'è rimasto Si usa con la magia Magia tasso Esp Ma tasso esp Ma tasso esp Non cazzo Adesso questo è il solito Devo fare così Aspettare Ahia Ok Questo è un'è andato Quest'altro è andato E adesso E adesso Oh, come dobbiamo Oh, come dobbiamo Un buon Ah, come dobbiamo 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 Proteggi la Hussi, sì? Buon plan, vabbiamo Proteggi la Kainé per noi Stupido Come dobbiamo Come dobbiamo Kainé Hurry Atti marziali Guardi a P30 Non c'è male, dai Non è ancora open Do I look like A goddamn Locksmith To you? No, you idiot What are you doing? Lock doesn't want to open? Fine I'll just break it down Stop, you impatient fool No, you idiot Come dobbiamo Come dobbiamo Goddamn No good Bullshit Bastard delicatessi no che adesso vuole di nuovo dai cazzo un pio di palle faccio che stanno tra le palle e lo sapevo che si ma è la cacata c'è nel senso andate con la magia che abbiamo di palle non so quanti devo ammazzare insieme mettiamoci sabone ok non so effettivamente quante di ammazzare di queste se ci sia una in particolare devo prendere dobbiamo aiutare dove cazzo è qua ok ok ma we got problemi o salve fantastico si è ripreso le palle adesso si vede che aveva le palle questo è porca vacca è casso però è cinghialo 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 gli faranno malo ci si arriva simboli ti preoccupate ci si è spaccato il culo e si è spaccato il culo Oh Dio! Oh salve, lei è molto più simpatico dell'altro a quanto pare Oh cazzarola Ok, ma se gli fa il piacere si sbatte le corna, oh porca troia Scusatemi Eccoci qua, è che è morto, voi cosa dite? Sono ancora vivo? Dobbiamo prendere da qualche punto particolare che mi è sfuggito Evidentemente si E non c'è scritto nessuna parte Oh no Non posso stoprire ora, dammi Stai concentrato, Kainé Non fai vittima a queste distraczioni Come on, abbiamo bisogno di continuare Non c'è che continuare A meno che la dobbiamo andare da qualche altra parte Ok 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 Ma continuate Ci hanno fatto un po' malo, eh, ma adesso Opla, cos'è? Una lancia Preciere C'è cose che fanno piacere semplici Ma Cioè, vanno le armi Non le uso le lanci No, perché non siano buone Perché Mi ci trovo Cioè, mi piace più giocare così E adesso C'è voglio però Farmi da qualcosa C'è un cazzo No, pure Salve, salve Vedete che li troviamo tutti No, però devo riprendere queste cose, grazie Ah, devo evitarlo Perché mi one shotta Che bello E che cazzo E che cazzo ne sapevo io Allora, scusate un attimo Dove riprendere la spada Del lagone Si chiamava così anche prima Ok, andiamo velocemente Com'è che ci fosse qualcosa Capite? Porro, scusate Devo capire Se devo andare da qualche parte In particolare O se nelle casse C'è qualcosa di spezioso Cioè, sono tante le cose Che devo capire Ci voglio provare Perché ha detto Magari c'è qualcosa Però così Non lo capirò mai Ok Peccato Perché magari c'era qualcosa di buono È rimasto lì Ok La stazione con due porte Cosa vuoi fare? Dammito, non posso portarlo a aprire Ah, per forza Salve C'è tanta fatica Poi ci spacco il culo Poi vedi che Come succede C'è Due porte che mi hanno attaccato L'entrimento è anche lockato Mi dici cosa devo fare A tutto il punto No Devo continuare La mia notte Che non si apre la porta Non è che c'è un problema In realtà Non devi sciapare Perfetto Te ne sausti Non bastava tirare Nell'anzio In shom Ti è stata Devole popola No? Interessante Gre Devo capire Ha 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 Ma perché devo passare qua Ah ti ho capito Ho compreso Ho compreso Ho compreso Un'anzio Un'anzio Germezi Un'anzio 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 No! Ghi, attode, aricolasa. Richi. Ako. No! Open the door! You can't fight that thing on your own! Hara! Yukoku, Otaoki, Aruta, Yuto! Kuru, to, ko, chi, ilu! Kate... Eh, to... Ketaru, Ito, Echi, Kero, Arteria, Dasse. Giu, Zii. Kaku, Ichigi, Si! Shinju, Kareluta, Kaizam. Te, Rasu. Ander, Arata, Te... Ulranu, Perua, To, Chi! Ulranu, Perua, To, Chi! Eh, non lo vedo bene, insomma, perdoe. Open the damn door! Eh! Knock it off already. Let's go. Kaine... He's fighting for you. And for Fira. Don't let him die for nothing. My friend. Eh, storia triste. Aleh! Oh, finalmente. Un po' di castle. Era ora. Un guento medico. Un guento medico, scusate eh. Punto. Lo prendo, tanti saluti. Aleh! Cioè... Deve essere molto ostico quello che c'è di qua, perché... Per darmi tutta sta rapido della fortuna. Guinti vari. Va bene, ci fermiamo qua, ragazzi, per curtirvi di tutto. Il video, come al solito, lasciate un like, un commento, se vi piacerebbe di farmi sapere cosa pensate. Come al solito, sono Toshiba. Ciao, ciao!